Una situazione d'urgenza e di particolare pericolosità per la salute pubblica. Il depuratore di Molfetta inquina, deturpa le bellezze naturali, per questo va sequestrato. La facoltà d'uso è autorizzata a condizione che si proceda all'immediata attuazione di una serie di prescrizioni prima che sia troppo tardi. Chi denunciava l'aveva detto, la schiuma sospetta e le chiazze nel mare, nel tratto di costa dell'oasi naturale di Torre Calderina, non potevano che dipendere dal cattivo funzionamento dell'impianto di Contrada Lago Tammone, definito obsoleto dal GIP del Tribunale di Trani Francesco Zecchillo nel provvedimento di sequestro, praticamente abbandonato, non più in condizioni di operare efficacemente. Dal depuratore sarebbero state scaricate in mare acque reflu e non depurate, con valori chimici superiori a quelli limite, all'interno depositati senza autorizzazioni i fanghi prodotti dall'impianto. Sull'impianto stesso, gestito dalla società in liquidazione Eurodepuratori, hanno accertato i militari della Guardia Costiera, coordinati dal magistrato Antonio Savasta, i controlli della pubblica amministrazione sono stati definiti inefficaci, le modalità di appalto per il suo adeguamento addirittura discutibili. Singolare quanto accertato dagli investigatori appena qualche giorno fa. I reflui scaricati in mare erano di colore marrone, in superficie c'erano grosse quantità di materiale solido fecale. L'area interessata, scritto nei verbali, sembrava una fogna a cielo aperto. In tutt'otto gli indagati, tra questi due ex dirigenti del comune di Molfetta, Vincenzo Balducci e Rocco Altomare, il rappresentante legale di Eurodepuratori Fulvio D'Attanasio, il presidente Gennaro Pisano, la dirigente del servizio tutela acqua e della regione Puglia, Maria Antonia Iannarelli, il presidente dell'autorità idrica pugliese, Paolo Perrone, il direttore generale Vito Colucci e la funzionaria tecnica Cecilia Passeri.